Pochi mesi dal primo incontro si torna a parlare ad alta voce della SP20, la strada che collega l'area Vestina alla Val Pescara. L'importanza di questo incontro? Cercare di trasmettere purtroppo a chi ha dimostrato in questi mesi di non avere un minimo di attenzione per questi territori il grido di dolore della cittadinanza, delle imprese, degli operatori economici che non riescono più a subire questa situazione. È intollerabile che istituzioni di un paese che partecipa al G7 a distanza di quattro mesi non siano in grado di elaborare nemmeno un'idea di soluzione, di un'interdizione dell'arteria più importante della provincia di Pescara attualmente interdetta, cioè quella che collega la Val Tavo alla Val Pescara. Dopo quattro mesi siamo stufi di parlarne, cioè una strada provinciale così importante che di fatto impedisce a tutta l'area Vestina di raggiungere agevolmente le aree di interesse come Pescara, se non facendo il giro di tutto l'Abruzzo con un dispendio di tempo, di disagio e per le imprese di grandi risorse non può che essere una priorità. Siamo arrivati a scrivere al prefetto e hanno fatto bene i sindaci della Val Vestina, in particolare il sindaco di Pianella, a dire al signor prefetto, signor prefetto, purtroppo la politica che ci governa ha fallito perché non intende risolvere questo problema. Adesso devi convocare tu da prefetto la regione e la provincia perché siamo arrivati a un problema di ordine pubblico. Quali sono le soluzioni che voi avete messo in campo per risolvere questa situazione? Abbiamo segnalato la possibilità di un percorso alternativo con una strada a valle, abbiamo individuato una quota di fondi che potevano essere prelevati, spostati da opere meno urgenti per mettere in essere il dissesto, abbiamo chiesto almeno un tamponamento delle situazioni di emergenza per aprire una carreggiata e non precludere il passaggio di tutti. Abbiamo provato in ogni modo a offrire il nostro aiuto e il nostro consiglio ma pare che non ci si sente e allora a questo punto è giusto alzare la voce. Grazie.